Ciao, come va? Che cosa ti do? Posso dare un'occhiata? Ah, sì, certo. I prezzi sono tutti oscurati. Sì, posso dirti io il prezzo. Ah, ok, d'accordo. Allora, caffè del giorno in tazza grande. Quanto viene? Quanto sei disposto a spendere? Beh, veramente... 12 euro. Che cosa? 9. Dai, facciamo 9. Cosa? Stai dando i numeri? Ora vi dico qualcosa su di me. Mi va così. Sono 10 euro. Aspetta un momento, giovanotto. Allora, possiamo trattare sul prezzo. Oh, calma adesso. Non c'è bisogno di essere impazienti, ragazzi. Seguite il mio ragionamento se volete sapere il prezzo. È assurdo. Lo è, vero? Lo è. Enziché sia divertente. E se si trattasse del modo di acquistare i vaccini per il tuo bambino? Richiedi vaccini a prezzi equi a Pfizer e GSK. Ok, vorrei una tazza di caffè freddo. Quanto costa? Lo consuma qui o lo porta via? Non iniziare anche con me. Allora, ok. V Hus'ra, non iniziare anche con me. Come se si trattasse del 좋è. V Hus'ra, un'altra tazza di caffè freddo. Non iniziare anche con me. Quanto costa? Voi? Voi? Voi. Voi?